Le idee più spiazzanti e più originali anche di trasformazione di un attore o di un conduttore o di un personaggio televisivo in attore cinematografico come nel caso di Greggio per esempio oppure di un attore drammatico usato per film molto molto importanti e quasi sempre politici come Locascio in un ruolo sgangherato quasi da marionetta comica come negli Amici del Bar Margherita o l'usare un imitatore e anche presentatore di una trasmissione televisiva molto colta e raffinata sui libri come Neri Marco Re e farlo esordire nel cuore altrove in un ruolo di protagonista in una commedia importante diretta da mio fratello è stata anche quella una mia idea ma tante altre lo sdoganamento di Carlo Delle Piane, Pecorino nella commedia all'italiana era legato ormai quando noi gli offrimmo di fare il protagonista di Tutti i defunti trani morti a fare piccolissime parti in film di serie Z perché ormai Delle Piane era finito a fare i film con Femi Benussi, Carmen Villani, quando gli andava bene era Fenec, Carmen Russo, quei film lì lui lo chiamavano a fare una o due pose, una o due giornate di lavoro solo per sfruttare il suo primo piano il suo nasone comico e per aggiungere un nomino conosciuto in quei cast così modesti Nick Novecento è stata un'altra mia scoperta, Nick Novecento era un ragazzino di Porretta così buffo e così particolare che aveva questo modo di parlare così bolognese ma con questa Z e con questa S così spagnoleggiante diciamo così per cui io lo incontrai al bar a Porretta Terme sotto agli uffici del comune dove stavamo facendo appunto i provini per trovare i ragazzi che avrebbero formato la classe che avrebbe seguito Carlo Delle Piane in una gita scolastica, il professor Balla, Carlo Balla, quello era il personaggio interpretato Delle Piane nel film di una gita scolastica e lo costrinsi a salire a presentarsi da Pupi perché lui si vergognava era talmente buffo, era talmente carino, era talmente particolare come parlava e come si era anche vestito, come si era camuffato perché allora parliamo del 1983 allora presumibilmente i ragazzini stavano, i ragazzi di allora i giovani stavano scoprendo il mito di Miguel Bosè e lui così diverso fisicamente dal Miguel Bosè si era pettinato e si era vestito invece alla Miguel Bosè e parlando in quella maniera così buffa, così mi piace talmente tanto mi fece talmente sorridere che lo costrinsi proprio di forza a presentarsi da Pupi Pupi se ne innamorò anche lui naturalmente e quindi lo convincemmo a far parte di questo gruppo di giovani attori che interpretavano la scolaresca del film ed è stato con noi quei due mesi e tutte le scene, la maggior parte delle scene che lui interpreta in prima persona nel film in modo particolare la partita a carte sono quella della partita a carte sono scene che Nick interpretava veramente nella vita cioè noi andavamo, io e Carlo delle Piane con Nick Novecente, con Bob Messini che era un altro attore, un giovane attore di questo gruppo uscivamo spesso la sera assieme e loro erano talmente simpatici, talmente spiritosi che si inventavano lì al momento delle gag per farci ridere per cui io le raccontavo il giorno dopo a Pupi e Pupi le metteva automaticamente sul film quindi diciamo che fino alla proposta che ho fatto a Pupi nell'ultimo film Il figlio più piccolo di cooptare anche Zingaretti nel cast del film assieme a De Sica e ho la proposta di confermare la Morante che aveva fatto fra l'altro con noi un film abbastanza recente l'unico diciamo in successo al botteghino fra gli ultimi film che abbiamo fatto quindi magari un'attrice che non ci aveva proprio portato non per colpa sua poverina che non ci aveva proprio portato fortuna l'abbiamo ugualmente ripresa e se Pupi l'ha ripresa è stato perché gliel'ho suggerito io perché le ho suggerito a Pupi per esempio in questo caso di mettere vicino a De Sica due attori come la Morante e come Zingaretti perché la Morante è il prototipo dell'attrice da film d'autore e quindi sdogana ancora di più De Sica lo toglie ancora di più da una situazione che può essere interpretata dal pubblico come film invece di carattere natalizio e Zingaretti è quella via di mezzo fra attore serio, prestigioso che lavora anche in teatro e che però fa delle cose anche molto molto popolari però più che dignitose in televisione che media un po' diciamo le due estremità De Sica che viene dalla farsa del cine panettone la Morante che viene da Nanni Moretti e Zingaretti che sta in mezzo di conseguenza io credo che l'alchimia e la composizione di questo cast incuriosisca molto così come un locascio in un ruolo comico che sta assieme a Locascio che viene dai film I cento passi Buongiorno notte tutti i film molto pesanti molto chiusi molto politici anche improvvisamente lo vedi a fare quasi il burattino e in siciliano stretto il ladruncolo di macchine il sessuofobo vicino a Fabio De Luigi a comici come Fabio De Luigi come Marco Re come Diego Batantuono quindi anche lì c'è proprio diciamo è come fare un po' una squadra di calcio è come mettere assieme ecco ritorniamo a mettere assieme due centrali uno che sta più sull'uomo quell'altro che ha l'elevazione migliore e i due tornanti uno che ritorna di più e quell'altro che sta più avanti insomma è sempre un po' si ritorna sempre alla squadra al concetto del gruppo che poi anche la squadriglia degli scout e che poi anche la squadra Grazie a tutti.